La Regione Puglia a poche ore all'inizio della fase 2 sta diffondendo un decalogo di regole da osservare per questi primi giorni di nuova libertà. L'invito, il primo, è quello di stare a casa più che si può, si esce solo per necessità, con prudenza e senza attardarsi. Il secondo è quello di mantenere la distanza di almeno un metro alle altre persone. Tre, usare la mascherina se non si può mantenere la distanza di sicurezza. Quattro, i raggruppamenti di ogni tipo sono ancora vietati e considerati pericolosi. Cinque, rimane l'invito di lavarsi spesso le mani. Sei, non toccarsi occhi, naso e bocca con le stesse mani. Sette, utilizzare il gomito in caso di starnuto o colpo di tosse. Otto, pulire sempre le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol. Nove, seguire una dieta equilibrata consumando frutta e cibo sano. Dieci, mantenere la salute fisica praticando sport. Questa è una novità che può essere attuata in questa fase 2 da sfruttare per tanti che hanno voglia di tornare in forma.